venerdì 5 febbraio veniamo a leggere i siti a libera consultazione su internet che anche oggi hanno al centro delle loro notizie la crisi di governo e le consultazioni che mario draghi sta svolgendo per dar vita a una nuova compagine governativa a un nuovo esecutivo oggi il presidente incaricato ha visto forza italia domani vedrà i 5 stelle ma si sta registrando sta registrando una convergenza quasi unanime forse soltanto la meloni è decisa di rimanere fuori da un possibile governo draghi che porterà sicuramente a sciogliere la riserva domani sera o al massimo nei primi giorni della prossima settimana qualora il presidente incaricato volesse fare un altro giro di consultazioni anzi ci sarà certamente per definire soprattutto quella che l'idea di fondo del nuovo governo se essere tecnico o se contenere anche figure politiche una cosa che sembra non andare genio soprattutto al capo dello stato mattarella che è scottato dalle dalle beghe che ci sono state nelle consultazioni con il presidente della camera fico e si dice arrabbiatissimo per la performance di ieri di conte fuori da palazzo chigi che ha salutato gli italiani accanto a un tavolino non si fida dei veti incrociati che potrebbero dare le diverse forze politiche all'uno o all'altro leader e che potrebbero portare a nuovi dissidi a nuovi scontri e quindi a problemi sulla concessione della fiducia d'altronde sembra che la giacca blu per draghi non basti più adesso bisogna mettere la giacca da moto con il paragomidi e col paraspalle perché c'è una corsa a dire sì a draghi ieri è stata la volta anche di grillo il pd aveva iniziato insieme con forza italia subito dopo la nomina del presidente incaricato oggi dice sì anche la lega che non mette più alcun veto se non quello di non avere nella compagine i 5 stelle come accennavo sembra che soltanto fratelli d'italia per considerazioni proprie voglia mantenere una coerenza di fondo e tenersi fuori come si è tenuto fuori dal governo giallo verde e da quello giallo rosso tenersi fuori anche da questa terza compagine governativa e è chiaro che c'è tutta una situazione in movimento perché da una parte c'è la vecchia maggioranza che sostanzialmente chiede formalmente di essere rimessa in gioco con la giunta o di forze italia o dell'astenzione della lega in questa famigerata formazione ursula del governo che è quella che portò all'elezione della von der Leyen a brussela e che prevedeva i 5 stelle con il pd e l'ausilio di forza italia ma è chiaro che i numeri anche quelli dei sondaggi che però sono numeri di carta sono numeri di fumo ma che comunque rispecchiano assolutamente quello che è il trend che interessa il paese non possono essere stavolta tenuti da una parte e quindi è chiaro che ad oggi il presunto partito di maggioranza relativa dovrebbe essere la lega almeno a dire tutti i suoi sondaggi e partiamo dal nostro sito beeconomy.it sul quale vi invitiamo ad andare per leggere altri questi ed altri approfondimenti sul su beeconomy troviamo proprio un approfondimento sulla posizione della lega che come dicevo praticamente da oggi si associa con decisione ai sostenitori di Draghi ne parla Alessandra Mori che titola nel suo pezzo Giorgetti lo stratega europeista così lega il carroccio a Draghi anche Bagnai l'euroscettico dice sì. Bagnai che non è mai stato tenero è uno degli economisti della lega più interessanti e aveva sempre contrastato e contestato Draghi invece il senatore distante dalla linea europeista in mattinata esterna così nessun imbarazzo è un uomo delle istituzioni e saprà gestire il recovery fund io l'ho criticato sulle banche ma lui con noi è un pragmatico e qui da Alessandra fa emergere la figura di Giorgetti come un grande tessitore uno stratega europeista della lega che raccoglie le voci del partito degli imprenditori del nord delle imprese e del ceto produttivo italiano cioè la spina dorsale reghista che è chiaro è ancora quella delle zone più industrializzate del nostro paese e nel resto d'Italia la lega è anche molto ben inserita per quello che riguarda l'organizzazione territoriale è una delle poche che ha mantenuto una struttura da vecchio partito con le sezioni con i segretari provinciali e regionali e di questo ne fa una forza da tempo Giorgetti scrive Alessandra Mori testa la svolta liberale e moderata per il suo leader populista in cui il partito si riconosce e che ora può essere ad un passo dalla svolta epocale inserita oltretutto nella contingenza economico politica straordinaria nel senso letterale ovvero al dirà dell'ordinaria normalità di ogni umana previsione è per questo che la dichiarazione ieri di Giorgetti che ha detto Mario è un fuori classe come Ronaldo non può stare in panchina al di là dell'accostamento alla stella del calcio che fa tanto titolo sui giornali non sorprende più di tanto e la tesi di Giorgetti che aveva ribadito ieri che aveva reso nota ieri e che oggi è stata confermata dallo stesso Salvini è o sì o no o dentro o fuori i leghisti non chiederanno mezze misure perché non si può escludere il primo partito italiano da queste consultazioni Salvini ha sostanzialmente confermato le parole di Giorgetti che sono state ribadite anche da Zaia quindi il presidente del Veneto quindi è chiaro che c'è un'unanimità di intenti quantomeno nella Lega che nasce da un progetto lucido di Giorgetti che sa parlare con le cancellerie che apre a dialogo con il PPE e con la CDU tedesca che raccoglie il sentiment degli investitori che gli hanno chiesto a loro volta di parlare con Draghi vedremo come andrà bisogna vedere poi che peso potrà avere la Lega all'interno di un governo Draghi affari italiani ci dice che Salvini in un colloquio con la redazione di affari italiani ha dettato tre priorità della Lega per Draghi e sarebbero nessun aumento di tasse nessuna patrimoniale che invece è tornata molto di moda in questi giorni questo è il primo punto che è quello più strettamente economico che riguarda le famiglie cantieri aperti subito ovunque con azzeramento di burocrazia ritardi e codice degli appalti e infine piano sanitario vaccinale serio senza ritardi di sprechi all'alcuri con il coinvolgimento dei medici di base, pediatri, farmacisti, protezione civile, governatori e sindaci questo sarà più o meno quello che ci si immagina a Salvini vada a chiedere non è poco però rientra sostanzialmente in quello che Draghi scrisse sul Financial Times a marzo dell'anno scorso in cui fece un netto cambio di direzione su quello che credeva essere importante l'intervento dello Stato nell'economia e nel welfare a sinistra invece, centro-sinistra, continua un po' di confusione è chiaro che le forze della ex maggioranza ancora non si sono riprese dal ceffone ricevuto da Renzi e successivamente da quello di Mattarella che ha immediatamente colto la palla al bazzo per eliminare ogni possibilità di una riedizione del governo giallorosso e ha incaricato Draghi spiazzando tutti però c'è ancora una tentazione come dicevo anche prima di voler ricostruire la maggioranza Ursula a partire da tenere comunque come centro l'asse PD Movimento 5 Stelle l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi ci avverte il blog che titola maggioranza Ursula per Draghi la chiede l'Europa un articolo non firmato della relazione che dice che l'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi sembra avere allontanato lo spauracchio di un ritorno anticipato al voto questo spauracchio io non capisco perché la regola principe della democrazia faccia tanto paura però prendiamone atto prendiamone atto sondaggi alla mano avrebbe consegnato l'Italia nelle mani del centro-destra le consultazioni dell'ex presidente della BCE sono ancora in corso ma col passare delle ore si va delineando quello che potrebbe essere un ampio appoggio al nuovo esecutivo dalle principali forze politiche in Italia infatti alzano i gomiti e si scansano l'uno con l'altro pur di arrivare per primi a dire a Draghi che è il più bravo di tutti poi un giorno parleremo anche dei giornali a cominciare dalla riga di Matteo Salvini che sta già pensando a possibili ministri Draghi non si è ancora sbilanciato sull'ipotesi di un governo politico o tecnico torniamo a quello che dicevamo all'inizio di magari un mix tra le due opzioni ma dall'Europa sperano nella cosiddetta maggioranza ursula un'alleanza a lungo termine che ricalchi la situazione e vabbè questo l'abbiamo già detto ma poi chi è che fa questo appello dall'Europa per fare la maggioranza ursula non è la von der Leyen, non è la Macron o la Merkel e David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo in carica da luglio 2019 in quota PD ha lanciato un messaggio molto chiaro al Movimento 5 Stelle chiedendo di portare avanti l'alleanza con il PD dopo i tanti sforzi fatti e l'autorevolezza guadagnata in Europa penso che anche il Movimento 5 Stelle non rinuncerà a contribuire a sostenere l'impegno del presidente incaricato Draghi forza, forza coi gomiti forza allora sembra una ha dell'incredibile però evidentemente come ripeto probabilmente ancora non si sono riavuti dal fallimento del tentativo di rifare il Conte Ter perché è chiaro che se deve essere un governo di salvezza nazionale di unità nazionale potrà non avere politici ma tecnici di area dei diversi schieramenti ma non ci può essere un fulcro ben preciso che poi viene sostanzialmente da un fallimento di un accordo tra le forze che componevano il governo precedente unica voce contraria alla presidenza di Mario Draghi è Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni che non lo vuole c'è il dilemma della coerenza alla base di questo di questo atteggiamento, di questa posizione il giornale .it cerca di spiegarci le ragioni di uno stracismo che vengono da lontano e sono radicate nei principi cardine di Fratelli d'Italia ci sarà un prezzo da pagare in consenso a questo o no ma vale di più per il partito di FD di rimanere ancorati al proprio elettorato alle principali stanze vestillo del partito costruito dall'unica leader donna di destra e che viaggia a vele spiegata e sospinto dal vento dei sondaggi 18% la rivelazione più alta quindi queste sarebbero alcune delle ragioni e torniamo su B-Economy dove si cerca comunque di mettere una di dare una prospettiva precisa a quello che sta succedendo appunto troviamo che ci sia molta confusione nell'atteggiamento dei partiti che alla fine vanno tutti a prostrarsi con il presidente incaricato che è personalità di altissimo livello anche a livello internazionale europeo vedremo dopo che ci sono anche delle preoccupazioni da parte dell'asse franco tedesco in Europa che sa che una volta che Draghi prendesse la guida del governo italiano dovrebbe poi fare i conti con un'Italia che fino ad oggi è stata vista sempre come un fratello minore nonostante sia fondatrice e grande contributrice dell'Unione Europea Giuliano D'Aria su Beeconomy ci racconta la prospettiva Draghi e la morte presunta della politica ecco nei commenti di questi giorni esce emerge questa questione della morte della politica e si fa molto spesso il parallelo con l'avvento del governo Monti nel 2011 Giuliano ci dice qualcosa non torna in questa crisi dove il parallelo con il governo Monti è esercizio di massa nei commenti Monti arrivò quando lo spread era a 400 punti base e il governo tecnico lo portò a oltre 500 il globo e l'Europa erano assillati da una crisi finanziaria quella dei mutui subprime ricordatevi nel 2008 Mario Draghi arriva invece quando lo spread segna 162 punti base e il globo e l'Europa sono assillati da un'epidemia roba di salute e non di finanzia di finanza e Giuliano D'Aria ci dice che il primo ottimo risultato della prospettiva Draghi è che non si parla più di Covid-19 dalle pagine dei giornali della TV sono spariti i dati terrificanti la conta dei pericoli gli scenari futuri devastanti la caccia agli assembrati il cosa si può fare e il cosa no vuol dire che Draghi intanto ci riporterà la libertà di spostamento e presto quella di abbracciarsi un altro parallelo che si fa con Monti è quello di tutti i partiti che gli votarono la fiducia senza se senza ma su un programma lacrime e sangue per non far arrivare la troica che avrebbe assassinato l'Italia non c'era un euro si diceva all'epoca dell'avvento di Monti oggi con Draghi invece c'è una potenziale pioggia di denaro da gettare sul territorio le imprese e le famiglie la situazione è esattamente inversa il vero rischio è che Bruxelles si voglia tenere in cassa tutto questo ben di Dio per dirottarlo al salvataggio delle banche tedesche o sull'economia francese e finisce l'aria con c'è solo un punto di contatto reale tra l'esperienza Monti e la prospettiva Draghi il rinvio delle elezioni nell'imminenza della direzione del capo dello Stato allora come oggi i sondaggi premiavano la parte destra dell'emiciclo parlamentare l'esperienza Monti la sospensione delle libertà elettorali portò alla rielezione del secondo mandato di Napolitano che ebbe il solo risultato di far esplodere il sentimento grillino nelle piazze e a portare la creatura di Grillo prima al 25 e poi al 33% nelle elezioni prima del 13 e poi del 18 in un periodo in cui la volontà popolare uscita dalle urne veniva puntualmente ribaltata con i governi Letta Renzi e Gentilone a spese del povero Pierluigi Berzani l'ultimo del PD che faticosamente le elezioni del 2013 le aveva davvero vinte e furono proprio i grillini a stordirlo e a farlo fuori conclusione la politica è viva altro che morta e c'è stato un un movimento che ha portato laddove invece la politica è stata imbrigliata tenuta a freno impoverita e umiliata da manovre di palazzo quella che è fallita nell'intento di intorpidire e ferire la Costituzione non è la politica ma è l'amministrazione emergenziale improvvisata e in malafede che finisce con un comizietto al tavolino che fa l'effetto dei mezzi matti che stanno a Londra che nello speaker's corner di Hyde Park salgono sullo sgabello e raccontano al mondo la loro verità l'arrivo di Draghi conclude Daria come uomo super partes ci fa sperare che un nocchiero non un dittatore possa ricondurre il quadro politico alla normalità e potrebbe darci delle belle sorprese visto che a 74 anni non ha più niente da chiedere al riconoscimento sociale della sua bravura nessuno lo può ricattare nessuno può ricordargli vecchi favori e speriamo bene che sia così Daria diceva che probabilmente cambierà qualcosa nella pandemia è una cosa che conferma dagospia.com con Draghi ci si riattovaglierà a cena racconta Dagospia citando poi tra l'altro un pezzo preso dal Corriere.it di Fiorenza Salzanini e Monica Guerzoni dal 5 marzo i ristoranti saranno aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione il CTS e grazie a Dio da Ilvio Libera ora la decisione dovrà essere presa dal governo che speriamo possa addirittura anticipare questa soluzione che ad oggi è risultata sempre poco comprensibile alla gente comune perché non si capisce perché a pranzo il virus non morda e la notte invece si getti sui commensali per infettarli le nuove regole mascherina obbligatoria quando si sta in piedi numero massimo di persone al tavolo 4 e niente buffet vabbè queste sono poi tutte le le follie le follie che hanno hanno connaturato questi dieci mesi di epidemia di emergenza e di paura e che francamente come sta procedendo la politica e l'economia di questo paese si nota come fossero decisamente gonfiate ad arte da Palazzo Chigi per poter continuare a legiferare con il DPCM cioè in piena emergenza e senza contraddittorio né con il Parlamento né con l'opposizione questo poi si vedrà qualcuno dovrebbe pure fare giustizia di questa faccenda e andiamo appunto a vedere quanto invece la figura di Draghi potrà pesare sul livello internazionale ecco qui veramente andiamo a toccare un tasto interessantissimo per il futuro dell'Italia dell'economia e dell'economia dell'Italia Lorenzo Vita ce ne parla su insiderover.com il risico europeo è l'avvento di Draghi Mario Draghi ascolta i partiti il via vai delle consultazioni prosegue mentre l'ex presidente dell'ABC prende nota delle richieste dei vari movimenti e attende sabato per sciogliere la riserva e nel frattempo le cancellerie d'Europa da Bernino a Parigi passando inevitabilmente per Bruxelles osservano con ansia aspettano il semaforo verde per il cambio di governo in Italia non una questione di secondo piano per l'Europa il fronte italiano rappresenta da sempre la parte scoperta dell'architrave UE dove anche se non si decidono i destini del continente di certo può decidersi se e come possa proseguire il sistema su cui si fonda l'impalcatura comunitaria perfettamente chiaro questo concetto io però vorrei veramente cominciare anche sfruttando il fatto che Draghi sta per diventare presidente del Consiglio di finirla con questa questione che l'Europa ci guarda come la parte scoperta dell'architrave UE in questi dieci mesi Ursula von der Leyen la Merkel Macron e tutti quanti loro e gli austriaci gli ungheresi hanno dimostrato di non essere un pelo più bravi sicuri della politica italiana che non hanno minimamente credibilità maggiore rispetto a quella che è la politica italiana anche ai suoi minimi termini e spero che veramente questo avvento di Draghi e di una classe dirigente scelta più che pesata in termini di voti in questo caso cioè da dirlo faccia finire una volta per tutti perché con i vaccini con il Fondo Sur con il Recovery Fund che doveva arrivare a marzo del 2020 non a ottobre del 2021 con tutte le diatribe che ci sono state gli olandesi che non volevano i paesi frugali ma frugali di che frugano nelle loro tasche sostanzialmente questa è una retorica veramente da finire da far finire una volta per sempre nella stampa italiana che a livello di giornali ma estremi esagera addirittura di più il fatto della nostra incapacità o della nostra inaffidabilità gli europei sono inaffidabili esattamente quanto tutto il resto dell'Italia e lo hanno dimostrato ampiamente quindi è un problema di rivedere il funzionamento delle istituzioni e delle capocce degli uni e degli altri per poter riuscire a fare qualcosa di diverso se andate a vedere subieconomy.it nella nella sezione l'economia reale ci sono tutte una serie di assurdità che arrivano da Bruxelles sull'etichettatura su quello che fa bene quello che fa male si dice sempre che si mettono a misurare le zucchine ma non solo ne hanno fatte di cotte e di crude a nostro danno non perché eravamo inaffidabili ma perché a mio parere almeno siamo stati sempre troppo disinteressati troppo distanti guardando più a quello che succedeva nei nostri confini rispetto a quello che ci fregavano fuori dai confini il credito di Draghi nel cuore dei tedeschi più lucidi molti a destra sono ancora dell'idea che quella scelta del whatever it takes sia stata in realtà un colpo durissimo all'austorità nordica non è un tema da considerare in modo superficiale né può essere il credito ottenuto dall'ex presidente della banca centrale europea in tutti i palazzi UE perché è proprio a Berlina che le coste sono sul punto di cambiare le coste è un errore di battitura le cose sono sul punto di cambiare e questo significa che è in corso un risico di fondamentale importanza che coinvolge non solo l'Italia ma l'intero cuore pulsante dell'Unione alla fine il concetto è quello l'Italia potrebbe prendere una posizione terza rispetto a Francia e Germania che oggi fanno il bello e cattivo tempo questo ce lo dice anche l'Huffington Post che dice l'ombra di Draghi sul duo Merkel Macron primo bilaterale della cancelliera del presidente francese dall'elezione di Biden finisce disturbato dalle tensioni con Mosca ma la novità potrebbe stare in Italia ed è proprio l'argomento Draghi il nuovo arrivato tra i leader è già presente nelle considerazioni di analisti internazionali Draghi potrebbe non solo cambiare l'Italia ma potrebbe anche sconvolgere l'equilibrio dei poteri in Europa basato per troppo tempo sul duo franco-tedesco allora salutiamoci dicendo semplicemente che Draghi non è non è certo Superman non è certo Zidane o Platini tanto meno Ronaldo però è chiaro che potrà portare davvero un qualcosa di nuovo e magari essere quella sala parto questo governo potrebbe essere anche quella sala parto che concluderà un periodo molto complicato molto confuso molto di confusione mentale della nostra politica non di mancanza o morte o morte della politica ma di confusione mentale della politica e delle sue istituzioni che ci ha portato in queste condizioni rialzarsi non è complicato non è difficile ci vuole il suo tempo ma l'importante è essere sobri determinati e sapere dove andare in questo caso forse potremmo trovare una via decisiva grazie grazie